Radio Radicale, siamo con l'ex senatore Stefano Esposito del Partito Democratico per parlare di traffico di influenze. Lo facciamo perché oggi abbiamo appreso la notizia che il figlio dell'ex ministro Vincenzo Visco è stato posto ai domiciliari per un'inchiesta che riguardava anche il traffico di influenze. Il figlio di Vincenzo Visco è stato un dirigente di Invitalia e sta da oggi ai domiciliari. Volevo chiedere al senatore Esposito che è uscito da poco da una vicenda giudiziaria che ha rovinato gli ultimi anni della sua vita, è stato anche indagato per traffico di influenze. Che tipo di reato è questo e soprattutto se ritiene giusto cambiare questa fattispecie di reato e come ha preso questa notizia? Al netto che purtroppo non sono ancora uscito dalla mia vicenda dopo sei anni e dopo che c'è voluta la Corte Costituzionale per chiarire alcuni aspetti della mia vicenda. Io ormai proprio partendo dalla mia esperienza quando leggo notizie come queste vado non cauto ma cautissimo a maggior ragione se di mezzo c'è il traffico di influenze perché è un reato assolutamente fumoso che può essere applicato in qualunque modo e per qualunque situazione. Come ho sempre spesso detto in questi anni probabilmente io ho commesso traffico di influenze cinque volte al giorno nella mia attività parlamentare perché se anche l'interlocuzione con mondi di impresa, con soggetti che ti chiedono un'informazione può essere catalogato come traffico di influenze allora siamo tutti colpevoli di qualcosa. Soprattutto se fai politica, soprattutto se ascolti. Adesso io ovviamente non conosco la vicenda specifica, ho letto quello che è stato pubblicato dai giornali che peraltro come sempre raccontano solo una versione cioè quella dell'accusa e anche qui si aprirebbe il grande tema delle informazioni come vengono date. Di sicuro in questo momento il figlio di visco non è in grado neanche di difendersi quindi noi leggiamo che avrebbe fatto traffico di influenze ma non sappiamo di che cosa stiamo parlando concretamente. Adesso immagino che nelle prossime ore e giorni come al solito arriveranno le intercettazioni, pezzi di intercettazione. Io penso che il traffico di influenze va a dormire. Lei pensa che questa accusa, questo presunto reato sia legato anche all'uso distorto delle intercettazioni? Sì, io penso che il tema delle intercettazioni su reati come questo, in particolare il traffico di influenze, sia come dire un elemento centrale. Una frase, un certo modo di dire una determinata cosa viene tradotta, trascritta, non analizzata probabilmente in maniera puntuale e quindi ci troviamo di fronte a situazioni in cui le persone vengono distrutte. Io ho passato sei anni e non ho ancora finito. Però si stanno smontando un po' da quello che ho capito. Ma in realtà la mia vicenda, diciamo che la Corte Costituzionale ha certificato che l'indagine non solo non doveva essere iniziata ma è stata svolta nella perfetta illegalità costituzionale ma anche della legge. Quindi da questo punto di vista io guardo con... Lei non è stato ricandidato per questo? Ma la mia esperienza politica è relativa, le posso dire, io non sono distrutto dal punto di vista della mia carriera politica. A me hanno distrutto la vita, che è una cosa molto più seria della politica, se posso dire la verità. E probabilmente tutto questo è stato fatto sapendo coscientemente che si stava violando la legge. Questa è la cosa che disturba di più. Adesso la vicenda del traffico di influenze, io mi auguro che Nordio, che per la verità annuncia molto, chiacchierà altrettanto, ma poi concretamente al momento abbiamo visto ben poco, ridefinisca e metta dei paletti a questo reato del traffico di influenze, sul quale peraltro io a suo tempo quando venne votato ed ero legislatore votai contro, perché era chiarissimo che è un reato che può essere applicato per qualunque cosa e poi la vedi al processo, ma quando arriva al processo un imputato ha già distrutto la sua esistenza oltre che la sua carriera. Certo. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato che cosa le è successo, come è intervenuta la Corte Costituzionale e che cosa dobbiamo pensare quando leggiamo sui giornali queste notizie. Molta, molta, molta cautela, sempre, ma per il traffico di influenze certamente, ma anche per i reati più importanti come la corruzione. D'altra parte, io per esempio penso che, visto che è un tema sull'abuso d'ufficio, sarebbe stato meglio definirlo piuttosto che abolirlo, perché io faccio una previsione, cioè gli amministratori non saranno più accusati per abuso d'ufficio che non c'è più, ma gli verrà data direttamente la corruzione e poi si vedrà. Ah, certo. Grazie, grazie al senatore Stefano Esposito. Grazie a voi. Grazie.